Ad escavano minori online, pesanti indizi anche su un nissano di 27 anni, arrestato dei carabinieri perquisizioni in tutta Italia, fermato anche un 35enne nel Vicentino. Disordini prima di Acragas Nissa, segnalato un tifoso. Caltanissetta furto da 6.000 euro, indagano i carabinieri. Gela, infiamma un capannone, vigili del fuoco impegnati per diverse ore, indagano i carabinieri. Le prime dichiarazioni del nuovo presidente della regione siciliana Renato Schifani nel giorno della cerimonia di proclamazione alla Corte d'Appello di Palermo. Bentrovati in studio con l'edizione di oggi del telegiornale, apriamo parlando di cronaca. Ad escavano minori online, indizi anche su un nissano di 27 anni, arrestato dai carabinieri perquisizioni in tutta Italia, fermato anche un 35enne nel Vicentino. I dettagli nel servizio. Pesantissime le accuse che vengono mosse a un giovane di 27 anni della provincia di Caltanissetta e a un 35enne della provincia di Vicenza, arrestati e condotti in carcere dai carabinieri. Violenza sessuale sul minore, pornografia minorile aggravata e detenzione di materiale pedopornografico. Una vicenda che affonda le sue radici nel mondo online. Nel 2021, infatti, la madre di una minorenne di Torino aveva presentato una denuncia, sospettando che la figlia fosse stata adescata da alcuni pedofili proprio su internet. Uno dei due indagati, infatti, aveva finto inizialmente di essere donna, avviando con la minorenne una conversazione sulla chat di un gioco online, per poi spostare le chiacchierate sul servizio di messaggistica WhatsApp. L'indagato si sarebbe dimostrato gentile e comprensivo per arrivare a ottenere la fiducia di colei che, secondo l'accusa, considerava di fatto come una preda, per passare così alla richiesta di inviargli foto e video intimi di lei e del fratellino più piccolo. Nel frattempo, anche un altro indagato sarebbe entrato nel perverso gioco. La madre della giovane aveva però notato tutto controllando le conversazioni su WhatsApp e si era quindi rivolta ai carabinieri del capoluogo piemontese, i quali sono riusciti a risalire ai presunti responsabili, eseguendo anche perquisizioni e sequestri in varie zone d'Italia. La procura ha quindi chiesto al GIP l'emissione delle ordinanze di custodia cautelare in carcere. L'indagine non è ancora chiusa e potrebbero esserci nuovi sviluppi. Saranno il resto degli accertamenti e l'eventuale processo a chiarire le eventuali irresponsabilità dei due arrestati e anche il sospetto coinvolgimento di altre persone. Disordini prima di Acragas-Nissa, segnalato un tifoso agrigentino. Momenti di tensione prima di Acragas-Nissa, partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Coppetale di Eccellenza. L'episodio si sarebbe verificato mercoledì pomeriggio, davanti allo stadio esteneto di Agrigento, quando una decina di tifosi agrigentini, con il volto coperto e con in mano mazze e bastoni, avrebbero iniziato a tirare sassi e petardi contro il minibus dei tifosi della Nissa, che era appena arrivato nello spiazzale dello stadio. Fra i tifosi protagonisti dell'aggressione sarebbe stato individuato e denunciato un giovane, in stato di libertà, alla procura della Repubblica di Agrigento. Le ipotesi di reato sarebbero quelle di resistenza pubblico ufficiale, porto ingiustificato di oggetti atte di offendere e travisamento. Le indagini intanto proseguono nel tentativo di identificare gli altri soggetti coinvolti. Grazie all'intervento tempestivo delle forze dell'ordine, infine, i tifosi bianco-azzurri sarebbero stati dispersi, evitando così conseguenze più gravi. E ancora cronaca a Caltanissetta, furto da 6.000 euro, indagano i carabinieri. Una pensionata nissena di 97 anni ha subito un furto da 6.000 euro da una sconosciuta che si era finta la madre della vicina di casa. Con questa scusa, infatti, la malvivente ha bussato a casa della pensionata per farsi aprire. Proprio in quel frangente, l'anziana donna ha ricevuto una telefonata dalla nipote e si è allontanata per rispondere. Un'occasione propizia per la ladra, che si è subito messa all'opera cercando la refurtiva e purtroppo ha trovato terreno fertile in camera da letto, rubando diversi gioielli e anche poco più di una ventina di euro in contanti. Quando la pensionata ha chiuso il telefono, si accorta che l'ospite non c'era più. La stessa nipote della donna aveva sollevato dei dubbi quando la nonna le aveva raccontato della singolare visita e proprio quest'ultima ha allertato i carabinieri, che sono arrivati rapidamente sul posto. La pensionata è comunque riuscita a fornire una descrizione della ladra, spiegando che si trattava di una donna italiana di circa 50 anni, di corporatura robusta e con capelli scuri. Meno precisa la descrizione del viso, visto che l'autrice del furto, sicuramente per rendersi il meno possibile e riconoscibile, indossava una mascherina. I carabinieri stanno adesso indagando per risalire all'identità dell'autrice del furto. Ci spostiamo a Gela, in fiamme un capannone, i vigili del fuoco impegnati per diverse ore. Era il tardo pomeriggio di ieri, quando nelle campagne di Bulala a Gela un incendio è divampato, danneggiando i capannoni di una ditta alla termine imballaggi. Immediato e determinante l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme per ore. Pare che all'interno del capannone vi fosse materiale altamente infiammabile. Presenti gli addetti alla sorveglianza, dipendenti della ditta proprietaria, a rimanere sotto shock un cinquantenne. L'uomo, una volta al pronto soccorso del Vittorio Emanuele, è stato assistito dai medici. Ora bisognerà attendere che la struttura possa essere ritenuta nuovamente agibile per le verifiche che aiuteranno a capire le cause e le dinamiche dell'incendio. In un post su Facebook, la questura di Caltanissetta fa sapere che lo scorso anno sono state 32.241 le richieste di intervento pervenute in sala operativa da parte dei cittadini nisseni, in media 88 al giorno. Tali richieste hanno generato 10.544 interventi di equipaggi della Polizia di Stato sul territorio, in media 29 al giorno. Le chiamate che quotidianamente pervengono attraverso il numero unico europeo 112, concernono richieste di interventi di assistenza, di soccorso e segnalazione di eventi criminosi, quali ad esempio rapine, furti, danneggiamenti. Evasione e danneggiamento, un 39enne ai domiciliari. Sentiamo. Un rumeno di 39 anni residente a Delia è stato arrestato e collocato agli arresti domiciliari dai carabinieri perché deve scontare nove mesi a seguito di una condanna definitiva per evasione, danneggiamento aggravato e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Dalle carte del processo emerge che l'uomo aveva commesso i reati nella zona di Petrosino, in provincia di Trapani. Dopo la condanna in primo grado aveva beneficiato della sospensione condizionale della pena, che però gli è recentemente stata revocata per altre vicende nelle quali è stato coinvolto, almeno secondo quanto riportato negli atti dell'ufficio esecuzioni penali della Procura di Marsala, che ha disposto l'arresto con applicazione degli arresti in casa. E adesso andiamo alle prime dichiarazioni del nuovo presidente della regione siciliana Renato Schifani nel giorno della cerimonia di proclamazione alla Corte d'Appello di Palermo. A distanza di 18 giorni dal voto, Schifani è entrato in possesso delle sue facoltà. Il nuovo presidente della regione sicilia, Renato Schifani, infatti, è stato proclamato ieri presso la Corte d'Appello di Palermo. La cerimonia è stata possibile grazie alla chiusura definitiva di tutti i plichi delle 592 sezioni siciliane al voto. Mancano ancora i dati finali per dichiarare i nuovi eletti all'Ars, ma i numeri disponibili non consentono più di sovvertire il risultato riguardante il presidente. Comincia così la nuova vita politica di Renato Schifani, anche se da neopresidente della regione, è consapevole, a causa delle difficoltà che l'isola si trova a vivere, dell'ardo compito che lo attende. Schifani, però, dovrà ancora aspettare per avere a disposizione un'aggiunta con pieni poteri, come lo stesso ammette a margine della proclamazione tenutasi a Palermo. Principalmente guarderò un occhio alle emergenze, le emergenze sociali, le emergenze minorili, le emergenze, speriamo non si ripetano, delle catastrofi, dei disagi ambientali. Mi auguro che si concluda questa fase e che si possa insediare un'aggiunta nella pienezza dei poteri, per la quale non è che mi prenderò i miei tempi, cercherò di dividere tra interesse per l'aggiunta e interesse dei siciliani, perché gli interessi dei siciliani vanno pure privilegiati rispetto al rispetto istituzionale, perché non potrò fare a meno naturalmente dell'aggiunta che mi dovrà collaborare e sarà anche fatta bene. Inoltre, da governatore siciliano, Schifani rivolge un pensiero a Ignazio Larussa, eletto ieri nuovo presidente del Senato della Repubblica. Un saluto particolare l'ho mandato poc'anzi al neo, se ho andato a carriere allo Stato, sono felgissimo della sua elezione, una persona alla quale mi lega grande stile d'amicizia, abbiamo avuto percorsi istituzionali comuni, io Presidente del Senato, lui Ministro della Giustizia, percorsi politici comuni, io capogruppo, anche lui, quindi devo dire che per la Sicilia oggi è un momento tutto sommato felice. Dopo la proclamazione per Schifani sarà il momento dell'insediamento, quando oggi alle 18 a Palazzo d'Orleanse in Sala Lestia a Palermo avverrà il passaggio di consegne con il presidente della regione oscente Nello Musumeci. Inizierà così ufficialmente l'era del nuovo governatore siciliano Renato Schifani. Frane e alluvioni, prevenzione, tavolo di regia, preseduto dal prefetto di Caltanissetta. Il maltempo torna a spaventare la Sicilia. Ieri infatti un violento nubifraggio ha tenuto in apprezzione l'intera isola, con tante famiglie rimaste isolate, mentre altre sono state costrette a lasciare la propria abitazione per evitare il peggio. La situazione più delicata è stata registrata nel Trapanese, con le strade che a causa della violenza dell'acqua si sono trasformate in torrenti. Per questa ragione, e con l'approssimarsi della stagione invernale, si è svolto oggi in videoconferenza un tavolo di regia, preseduto dal prefetto di Caltanissetta, la dottoressa Chiara Armenia, a cui hanno partecipato il segretario generale dell'autorità di bacino distretto idrografico della Sicilia, il dirigente del Dipartimento regionale della protezione civile ed i rappresentanti delle forze dell'ordine e di tutte le altre componenti locali di protezione civile. Nell'occasione, la dottoressa Armenia ha rivolto agli amministratori locali di intervenuti le raccomandazioni operative indirizzate a loro con diverse circolari, evidenziando, come recita il comunicato, l'improcrastinabile esigenza di adottare, accanto agli interventi strutturali, misure non strutturali di protezione civile. Infine, il prefetto ha esteso la partecipazione anche a tutti i competenti organismi regionali, ad ANAS e dalle ferrovie dello Stato, al fine di avviare una strategia condivisa, diretta a definire in maniera chiara le linee di intervento da attivare per fronteggiare nel migliore dei modi eventuali situazioni di criticità. Nuovi vertici alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caltanissetta, il nuovo presidente è Romeo Palma. Nuovi vertici alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caltanissetta, il nuovo presidente è Romeo Palma, attuale presidente di sezione della Corte dei Conti della Calabria, mentre i nuovi presidenti di sezione sono i magistrati Andrea Catalano, attuale presidente del Tribunale del Riesame di Caltanissetta, e Antonino Porracciolo, presidente di sezione della Corte d'Appello di Palermo, che per anni ha prestato servizio anche come presidente di sezione in diversi uffici giudiziari nisseni. Nel dettaglio, le Corti di Giustizia Tributaria, denominazione che è sostituito quella di Commissione Tributaria Provinciale, sono chiamate a valutare quei casi in cui cittadini, aziende o enti presentano ricorsi in merito ad atti relativi a tributi. I casi più frequenti riguardano gli avvisi di accertamento emessi sia dall'Agenzia delle Entrate sia dagli enti locali, oltre alle cartelle di pagamento dell'agente della riscossione. Per le controversie di valore fino a 3.000 euro, le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica, per le altre il privato deve essere difeso da tecnici quali avvocati, commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro. Le Corti giudicano con tre componenti, il Presidente e due giudici, ma dal gennaio dell'anno prossimo le Corti di Giustizia Tributaria di primo grado decideranno in composizione monocratica le controversie di valore fino a 3.000 euro. Riaprire lo stadio Tomaselli e rendere fruibile la pista di atletica lo ha proposto il consigliere Oscar Aiello, capogruppo della Lega, nel corso dell'audizione dell'ingegnere Tomasella nelle commissioni congiunte seconda e quinta. In una nota Aiello evidenzia occorre restituire la pista di atletica alla fruizione pubblica. I Nisseni hanno bisogno di un luogo dove poter praticare sport, passeggiare in sicurezza e prepararsi in virtù dei concorsi nelle forze armate. Inoltre, sulle tematiche che interessano il calcio e il rugby, come quella delle linee del manto sintetico, Aiello auspica una soluzione che favorisca però, sottolinea, tutti gli sport. E adesso parliamo invece del Parco Robinson. Con la fine dell'estate terminano anche i lunghi pomeriggi illuminati dalla luce naturale del sole, così per giocare all'aria aperta bisogna andare al parco anche all'imbrunire. Sono numerosi infatti i bambini che insieme alle famiglie passano qualche ora pomeridiana nelle aree giochi cittadine, come nel caso del Parco Robinson. Nello stesso sono presenti scivoli, altalene, giochi adatti alle diverse fasce d'età. Alcuni genitori però ci hanno segnalato la scarsa illuminazione di una delle zone in cui è suddivisa l'aria giochi, lì dove è presente la struttura più grande, con tre scivoli di cui uno coperto, rendendo la permanenza dei più piccoli poco sicura. I lampioncini installati lungo il perimetro infatti in alcuni punti sarebbero in parto oscurati dalla vegetazione, ad influire sulla poca luce in quella zona in particolare anche la presenza di un corpo illuminante non funzionante. Lì c'è un impianto di illuminazione che purtroppo col crescere degli alberi è stato un po' occultato. Nell'immediato vediamo di provvedere con lo sfoltimento delle fronte degli alberi in modo da dare più respiro anche all'illuminazione. Poi comunque i tecnici valuteranno la possibilità se è necessario anche di implementare l'impianto di illuminazione magari integrandolo con dei corpi illuminanti in aggiunta. Intanto si ripresenta anche un altro problema, quello dei giochi danneggiati risulta infatti mancante un pannello in uno degli scivoli. Purtroppo questo è una cosa che spesso si ripete perché vengono utilizzati in malo modo, magari sono dei ragazzi più grandi che utilizzano i giochi per i bambini eccetera. Con l'ufficio manutenzione vedremo un po' di rimetterli in sesto. E adesso volley serie B2 femminile. Sabato alle ore 19 l'Alba Verde Caltanissetta giocherà a Ragalna contro l'Alus Mascaluccia. Le Nissene che nel turno precedente hanno battuto la Regio nel Gio Calabria puntano al secondo successo della stagione. A poche ore dalla trasferta questo il commento di Valeria Lamattina sulla pagina Facebook della società Nissena. Una partita particolare perché è la prima trasferta quindi è un campo nuovo però sì infatti non bisogna assolutamente sottovalutare nessuno perché alla fine non ci sarà nessuna squadra che ti regalerà mai una partita. Quindi noi facciamo il nostro lavoro durante la settimana, il nostro sacrificio quindi dobbiamo solo portare in campo quello che facciamo in questi giorni. Andiamo al quadro completo delle partite della seconda giornata di campionato. Zafferana Crotone, Ardenz Comiso Geo Saionica, Ericina Cuscatania, Planet Fidelis Torretta, Saracena Stefanese, Alus Alba Verde, Region Reggio Calabria Valley. Passiamo al calcio la domenica delle Nissene, Castrovillari San Cataldese in serie D, Nissa Mazzarese in eccellenza. Sotto la guida del nuovo tecnico Pietro Infantino dopo l'esonero di Matteo Vullo all'indomani della terza sconfitta casalinga contro la Cireale, la San Cataldese si prepara alla trasferta di Castrovillari in programma domenica alle ore 15. I Verdi Amaranto hanno assoluta necessità di punti per tirarsi fuori dai bassi fondi della classifica. Il penultimo posto, ma soprattutto i soli tre punti all'attivo, non fanno dormire sonni tranquilli ai tifosi che sperano nella seconda vittoria esterna della stagione dopo quella di Cittanova. Il Castrovillari reduce dalla battuta d'arresto contro il Catania, un 4-0 che brucia non poco dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0 e giocato a ottimi livelli, vuole tornare subito al successo. Le partite della sesta giornata nel Girona I di serie D, Canicattì-Trapani, Castrovillari-San Cataldese, Acireale-Realla-Versa, Sant'Agata-Sanluca, Cittanova-Ragusa, La Mezzia-Santa Maria, Locri-Vibbonese, Paternò-Licata, Mariglianese-Catania. Non ancora smaltita la delusione per la sconfitta di Agrigento in Coppa Italia che è costata l'eliminazione, la Nissa torna a immergersi nell'atmosfera del campionato di eccellenza. Domenica la squadra allenata da Boncore dovrà vedersela tra le Muramiche con la Mazzarese, impegno che si preannuncia più arduo del precedente confronto casalingo contro la Parmonval, superata con un perentorio 4-0. La Mazzarese è allestita per navigare nei quartieri alti della classifica e tra le formazioni imbattute del girone insieme ad Acragas, Enne e Don Carlo. Finora ha vinto due partite e ha pareggiato tre volte. Inoltre vanta un'ottima difesa, appena due gol subiti. Il quadro delle partite in programma nel girone A di eccellenza, fischio d'inizio alle ore 15.30, Casteldaccia Profavara, Don Carlo Enna, Leonfortese Gela, Mazzara Castellammare, Nissa Mazzarese, Oratorio Marineo Parmonval, Resuttana Cus Palermo, Sciacca Acragas. La San Cataldese annuncia che Accursio Sclafani entra a far parte dello staff tecnico di Mr. Pietro Impantino, ricoprendo il ruolo di allenatore in seconda e match analyst. Sclafani negli ultimi anni è stato anche responsabile tecnico di Mussomeli, Sporting Vallone e Casteltermini. Bene, era questa l'ultima notizia per oggi, non ci sono ulteriori aggiornamenti. Ci rivediamo nelle prossime edizioni del telegiornale. Intanto vi lascio al meteo le notizie di pubblica utilità e come sempre grazie per averci seguito. Ben trovati in aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo. La giornata di sabato con il minimo di bassa pressione che ormai avrà abbandonato l'estremo sud Italia, si troverà sul Mediterraneo orientale e sulla nostra penisola rimonterà un po' di alta pressione da ovest. Andiamo a vedere quindi nel dettaglio quello che succederà perché il sole non mancherà su molte zone, farà capolino dopo le nubi temporalesche anche all'estremo sud. Nel dettaglio la mappa delle precipitazioni con questo clima asciutto dappertutto, le piogge oltre Alpe. Possiamo notare di fatti come nei stati centrali del vecchio continente ci saranno delle perturbazioni che si muoveranno da ovest verso est, ma non interesseranno l'Italia. Infatti qui cieli sereni o poco involosi, un po' di nubi irregolari solamente sull'alto tirreno. Temperature dappertutto oltre i 20 gradi. Dettagli e approfondimenti come sempre scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo. Servizi di pubblica utilità. Farmacie di turno. Caltanissetta. Servizio diurno. Vizzini. Viale Trieste. Servizio notturno. Scarantino. Via Paolo Emiliani Giudici.